Si terrà giovedì 18 dicembre l'ennesima riunione del tavolo Massicci, in cui il governatore Frattura dovrà confrontarsi con i tecnici ministeriali su alcuni atti predisposti in base ai programmi operativi 2013-2015. Il tutto anche alla luce della questione di legittimità sollevata dal Tar Molise sui poteri del commissario alla sanità di riordinare o meno i servizi ospedalieri e territoriali, bypassando così i poteri legislativi del Consiglio regionale. La questione è dichiarata infondata dai giudici della consulta con la sentenza numero 278 del 2014. A tal proposito la Corte Costituzionale riafferma che i commissari nominati per attuare ai piani di rientro non possono compiere atti di natura legislativa, azione che spetta al Consiglio regionale, ma al contempo ribadisce che le funzioni amministrative del commissario devono essere poste a riparo da ogni interferenza degli organi regionali. Sull'impugnativa di provvedimenti dell'Asdrem e del commissario riguardanti la riorganizzazione dell'ospedale Santissimo Rosario di Venafro, la consulta ha così escluso che il commissario abbia prodotto atti di natura legislativa. Una sentenza che alimenterà il dibattito in Consiglio regionale. Intanto, in vista dell'incontro romano in programma per il prossimo giovedì, il governatore Frattura è in vita ad un confronto costruttivo tra le parti coinvolte, senza alzare barricate, il tutto al fine di salvaguardare gli interessi e la salute dei cittadini molisani.